No, ma ospite, no, però dico qua, adesso proprio, questo è il mio programma delle visite. Ti piace questo? No, sto scherzando, non è il mio, è di tutti noi. Lo studio ti piace? Beh ragazzi, questa è ricchezza, è ricchezza, l'abbondanza, grazie ad averci fatto sentire, che poi è brutto, che poi devi tornare indietro, perché noi oggi qui, da mezzogiorno, scusami, dalle 10 a mezzogiorno, nello studio di DJ Chiam Italia, siamo Cenerentola al ballo, no? È vero. Però poi a mezzogiorno la carrozza torna a zucca, i cavalieri tornano topodini. Che sai, che sai, magari è un inizio e d'altra parte è una giornata di beneficenza. Sì, poi c'è sempre gente, magari che ne sai, magari uno scivola sul ghiaccio, si rompe una gamba, dice Fabio mi vuoi sostituire? Non ho detto chi, non dovrebbe essere Nicola, Lirfa, Rolfi, che ne so, uno che scivola e dice Fabio vuoi far tu? E io riprovo la ricchezza. Ragazzi, iscriveteci, mandateci tanti messaggi. L'unica cosa che ci divide all'interno, questo con me c'è Nicola Vitiello, grandissimo, Francesco Squarna, è il mio compare di giochi ormai, perché non è un lavoro, è un gioco, Maurizio Rossato. L'unica cosa che ci divide è che noi siamo in tre pranzi diversi per questa charity. Io non so come ringraziare, non so chi devo ringraziare per questo, io sono tornato a vedere, ho capito che Milano è viva, a Milano c'è gente, a Milano c'è gente che c'è il traffico, c'è gente che porta i bambini a scuola, c'è gente ferma in coda, perché io esco alle 11 di sera con quegli orari da vampiro e pensavo che Milano fosse una città deserta, grazie, grazie. Alle 7 e mezza del mattino, nel traffico col motorino, c'è gente a Milano, Milano è viva. Io stamattina ho portato i bambini, ho perso il tram, ho fatto 11, c'era l'attesa, ho tutto sudato. Perciò che siamo andati al bar, tu in camicia. Io sono uscito per smettere di sudare, sono sceso in camicia un attimo. Comunque ragazzi, tutto molto bello, ricordatevi che potete sempre venire a pranzo con noi DJ di Radio DJ, quelli che vogliono venire a pranzo con me e non hanno i soldi, perché fate una colletta, venite in 10 o 15, il resto pago io, le 14 persone in più le pago io. Allora, questo è molto bello da parte tua, io su i personaggi noti a pranzo, è bello, è per beneficenza. Però del personaggio, non me ne volere, seguimi il discorso. Ti sto seguendo, ricorda. Il personaggio noto è l'ascoltatore che va con il personaggio, di te si sa tutto, quando hai fatto 7, 8, 9, 10 libri, hai fatto 10 film. Quindi si chiacchiera di più con te, dici. No, con me c'è qualcosa da scoprire, con Gianluca c'è qualcosa da scoprire. Quindi siccome nelle nostre offerte stanno andando molto bene, a pranzo con i Vitiello, 700 euro. Wow. Mi raccomando, fate salire questo, cioè vi potete, come questa cosa che hai detto tu, è molto bello. Fate la colletta. Potete fare una colletta. Quello che sta vincendo adesso è Linus, perché c'è uno col curriculum sicuramente, che dice investo i miei 3.000. Con tutto il rispetto, pure di Linus, si sa tanto, si sa molto. Sì, sì. Voi dovete andare a perà. I personaggi nascosti, Vitiello, io ad esempio, siamo fermi a 435 euro io e Federico Russo. Ma fate salire, dai, 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 dai. Andiamo a me, sì, perché voglio venire a pranzo con te. Anche Linus, che non sono mai riuscito ad andare a pranzo con lui, ho pagato io. Così, ma gli devo dire due cose. Noi siamo andati a Parco Sempione a fare il giro io e a Linus. Allora ragazzi, sigla e iniziamo con felicità, vai, vai. Questa è la sigla del volo del mattino, lo dico a te che non l'hai mai sentita. Eh no, a quest'ora no. Eccoli là. Eccola qua. Vediamo se è salito da vai. Un'emozione che non sai descrivere. Se avvieni da te perché ci fai su un volto sua felicità, felicità. In piedi, in piedi. È il momento in cui ci alziamo. Un'emozione che non sai scrivere, mi ne va. Non la so, non la so. Stravigliate perché ci stai. Sul volto tuo felicità. Eh esatto. Allora posso dire, quanto tempo fai al mattino? Un'ora? Allora, iniziamo 9.06, 10 di sigla, più 12 di pubblicità. E' la tecnica del DJ Angle. La sigla lunga. La sigla lunga. Perché così noi lasciamo sempre quella roba di dire, manca ancora qualcosa. Vedo che arrivano già dei messaggi. Sì, Fabio sei proprio un figo. Ma no, non è vero. Ori, no, è impossibile. Eccolo qua. Eccolo qua. Per contattare rispondi a questo numero. Va bene. Allora ragazzi, oggi ovviamente è una giornata speciale al di là del cambiamento del palinsesto. Ci sono tante buone azioni che si stanno, adesso noi scherziamo sui pranzi di sigla. Però insomma, alla fine dietro c'è tutta una cosa molto seria. I soldi verranno spesi, diciamo, in cose molto importanti. Abbiamo superato i 30.000 euro, quindi una cifra importante. Adesso tra poco sentiremo anche dove andranno questi soldi. Ok, quindi fra poco sentiremo appunto le varie associazioni durante tutto il giorno. Ci sarà questo palinsesto cambiato. Però noi siamo qua per ridere, divertirci, mettere bella musica. Qualcosa abbiamo preparato. Allora, i nostri amici qua, è successa questa cosa. Vi faccio subito una piccola spiega. Avete presente quel gioco della fiducia? Che tu sei così, ti devi far cadere indietro e il tuo amico ti prende. Sì, lo fanno anche per team building, no? Esatto. Per rafforzare lo spirito di gruppo. Io sono uno di quelli che non è quasi mai riuscito a farlo. Cioè, io non mi fido di nessuno. Lo faccio io adesso. Lo proviamo, io mi fido. Sono uno di quelli che tendenzialmente non si è mai fidato di nessuno per via di un'infanzia, diciamo così. Secondo me è perciò che io ho sempre il colpo della strega, perché mi fido. Allora, la domanda, la cosa è, oggi sono arrivato qui e questi tre ragazzi mi hanno detto, so che sei tu che conduci il programma, ma fidati, abbiamo preparato una sorpresa. Io, altra cosa che odio, le sorprese. Quando uno mi dice, ti ho fatto una sorpresa, dico, no, a me non mi fa le sorprese. Ma io sono consultato con Maurizio, che ti conosce molto bene. Abbiamo fatto un weekend insieme sulla neve e detto, guarda, io ho intenzione di fare questa cosa. Secondo te Fabio si incazza? Secondo me no. Anche io lo conosco da tanto. Incazzarmi no, però sono cose che dico, ok, mi fido di voi. Scusami Fabio, anche perché non è che c'è da incazzarsi o da incazzarsi. E' una roba che tu devi prendere atto. Cioè è una roba che si deve prendere atto. Conoscere una cosa che probabilmente in questo periodo che sei in giro per la promozione del libro, tu non ne sei a conoscere, ti sfuggi. L'unica cosa è che sono tutte cose, tanti ascoltatori, possiamo anche far aprire le telefonate, ci saranno tanti ascoltatori che non amano le sorprese, che non amano fare quel gioco lì della fiducia. Oggi faremo questo, però io dico, prima ho scelto questa canzone, ho chiesto stamattina sul tram, mandavo i vocali a Francesco, We are family. C'è strano. We are family perché ho detto dobbiamo dire che siamo una famiglia. Poi sentiamo dove vanno i soldi che raccogliamo oggi e poi io faccio lo gioco che mi fidi. Oggi mi fido. Il gioco che ti fidi dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Perché quel gioco lì, cioè il gioco, tu devi venire a conoscenza di una, è giusto, però per la tua carriera letteraria che tu venga a conoscenza di un fatto che sta accadendo. Ragazzi, We are family. Diamo i numeri, 347-342-5220, anche su WhatsApp possiamo sentire le vostre voci con un vocale. Veramente? Sì, assolutamente. Io non ce l'ho al WhatsApp al volo del mattino. No, questa è una cosa sperimentale, sperimentale. Sista Slager, We are family, vai volo. Sì, non abbiamo praticamente il cagato. Ma non ci possiamo mettere in credito. No, ma adesso fa lui, fa lui. Perché quella prima c'è tensione, dopo basta. È bella. Ma quando noi siamo qua, siamo sempre in onda? Sì, sì. Cioè è tipo, pum, porco! No? E' quella roba lì? Sperimentale. Sperimentale, sperimentale. È sperimentale la roba dei messaggi. 3, 4, 7. Dove stai andando? Allora, se siamo ancora in onda, questa roba che io ho detto con Fabio, cioè è vera. Voi del VIP conoscete già tutto. Cioè, Fabio, quanti libri hai fatto? 10 libri. 10 libri. Sono andati in Indonesia e c'è il libro di Fabio Volo. Prego. Grazie, Cali. E sono i personaggi minori con i quali voi dovreste venire a pranzo e fare una valida offerta. Non mi posso lamentare. A pranzo con i vitiello, 700 euro. Quanto hai fatto tu? Io sono a 500. 500. A pranzo con Francesco Parla, Federico Russo, a pranzo con i vitiello. Forza, forza. Ciao. Buongiorno. Ciao. Eccoci qua. Ok, si. Recupero una cuffia. Enrica sta qui? Enrica, di quale associazione sei? Casa Oss. Casa Oss. Casa Oss come il mago di Oss. Qua ha il volume. Bambina, per esempio, in tavola. Devi mandare giù la musica. E qui? Giù sotto il foglio che decida. Sì, sì. Io devo farci un microfono. Io devo farci un microfono. Non posso toccare niente se non te lo troverai. No, se ti dà fastidio il volume che è un po' alto alla base, è quello del volume. Va bene. Una bella camicia. Cavolo. Non sapevo se, non sapevo se osare, di solito sono sempre monocolore. Se mi stufo, faccio così, rimango così. Cioè mettete il video delle canzoni. Ma vanno il video delle canzoni che mettiamo? Ma che figato. Allora, tu parli da lì, ti han detto? Mi han detto così. Ok, guarda, lui è il tuo uomo di riferimento più di me. Su queste cose diciamo più... Mi... Enrica Baricco. Ok. Enrico Baricco. A proposito della gelatura. Faccio quei cognomi che... Questo riferimento è una cosa fattorita, no? Sì, sì. Non per farlo. Ma lei è... Ma lei è solente. Ma lei è solente. Ma lei è solente. Ma lei è solente. Guarda quanti messaggi. Guarda, tu sei contento. Mi sento come al solito dall'ufficio. No, sono più contento io che tu sei abituato in questo orario. Mi sento come al solito dall'ufficio. Sono spagnolo. Per me questa giornata in cui ci si può vedere, può vedere gente che di solito non è in diretta a tv come Fabio è un piacere pazzesco. C'è Gabi. Alla fine ci riesco a mettere la faccia a Eria Madrid sabato. Ma siamo in onda. Siamo in onda. Ma... Ma... No, mi parlavi così stavo dicendo. Ma come cazzo mi parli? Siamo in onda. No, non l'avevo capito. Scusami. Adesso ci appicchiamo anche allo studio. No, non l'avevo capito. No, di me ti dicevo. Ma perché mi legge il messaggio così tutto intenso? Allora, abbiamo adesso il momento quello un po' più serio. Quello un po' più serio. Adesso parliamo di Casa Ozz. Sì, spieghiamo dove vanno i soldi che stiamo raccomando. Parte dei soldi. Sono quattro le associazioni, quattro progetti. Uno si chiama Casa Ozz. Esatto. Buongiorno a tutti. Ciao Fabio. Enrica Baricco. Quando io dico Casa Ozz mi viene in mente tu ovviamente che ti conosco da un po' di anni e anche Luciana Letizetto che è sempre coinvolta. È un'amica. È sempre coinvolta in questi progetti. La salutiamo che oggi non è in onda con noi. Siamo anche territorialmente più vicini. Esatto, esatto. Però al dia di questo è un gran cuore. Cosa succederà con questi soldi che raccogliamo a Radio DJ? Intanto Casa Ozzo è un luogo diurno. È a Torino, vicino all'ospedale della Regina Margherita. Ci occupiamo di restituire una quotidianità che secondo noi cura, fa stare meglio le persone durante il giorno. Quindi le persone vengono lì. Immaginatevi una vera e propria casa. Si chiama Casa per quello. Nella programmazione dell'anno, oltre ai laboratori, i momenti in cui si sta insieme, si mangia e si restituisce un po' di quotidianità che fa star bene, si fa anche durante l'estate, l'estate ragazzi. Quindi nello specifico l'essere qui con voi sarà importante perché riusciremo a sostenere questo progetto che coinvolge un'ottantina di ragazzi e che stanno con noi per sette settimane durante l'estate. Allora, uno degli obiettivi è quello di riuscire anche a alleggerire le famiglie perché avere un bambino malato da seguire durante l'anno è veramente molto difficile. Quindi voi immaginatevi prima dell'estate il momento in cui le scuole chiudono, un problema per tutti. Ad oggi sono 12 anni che Casa Ozz c'è e dopo i primi tre anni hanno iniziato a chiederci le famiglie ma perché questo luogo non può vivere anche d'estate nella nostra quotidianità quando noi siamo a lavorare perché purtroppo non possiamo stare più di tanto lontano dal lavoro come tutti noi e lì abbiamo provato nel primo anno nel 2009, poi coincideva insomma con la prima estate ragazzi, da allora sempre, tutte le stati, sette settimane. Enrico, l'esperienza del gioco è fondamentale anche nei mesi di convalescenza, con la famiglia. Immaginate tutte le cose che sono normali nella vita dei nostri figli, della nostra vita, cioè riuscire a mangiare con qualcuno, riuscire a giocare, a imparare delle cose. Ecco io credo che la quotidianità e la normalità di vita aiuti a riprendere fiato. Le fate le gite. Facciamo le gite. Ogni settimana dell'estate ragazzi, il mercoledì gita, quindi mare, montagna, cose da vedere, però immaginatevi che Casavozza è una casa aperta al territorio. Dove si trova esattamente? Si trova a Torino, vicino a Piazza Zara, vicino al fiume e tra noi, tra l'ospedale Regina Margherita e noi c'è di mezzo al fiume Po. Potremmo fare anche un traghetto, ce lo siamo detti. Esatto, avanti e indietro, avanti e indietro. Bambini tra i 6 e i 14 anni. Tra i 6 e i 14 anni, anche un po' più grandi, quelli più grandini che Casavozza non la vogliono lasciare, ci chiedono aiuta, a volte riescono ad aiutare gli altri. Quindi nelle state ragazzi vengono chiamati ad aiutare. Fanno gli animatori? Assolutamente sì. Prima di salutarci, senti di dover dire ancora qualcosa? C'è qualcosa ancora che abbiamo magari dimenticato? Beh, assolutamente ce ne sarebbero mille. Direi che è importante per noi essere anche qui oggi e fare rete con altre associazioni. Ognuno di noi fa un pezzo di questa società molto importante. Ricordiamoci che voi oggi ci aiutate a sostenerci. Noi facendo questo facciamo risparmiare anche soldi allo Stato. E quindi ne diamo un servizio di cui la gente ha bisogno, il welfare, è una cosa di cui abbiamo bisogno tutti. Fare cooperazione con altre società. Quindi è molto importante riuscire a ottimizzare sia i fondi che noi raccogliamo, condividendoli, contaminandoci con altri. E queste occasioni come questa, al di là del fatto che è già importante che ci aiutate a sostenere ciò che facciamo, rendono e facilitiamo questo tipo di condivisione. Quello che diceva Enrica, no? Cioè di fare squadra con altre associazioni ci porta a ricordare che non è soltanto Casa Holz di cui ci occupiamo in questi giorni di beneficenza, ma c'è anche Dynamo Camp, Genitori Insieme e Vivas, con i quali poi dopo parleremo. Va bene, grazie Enrica. A voi, a voi. Speriamo di far bene, speriamo di far bene. Siamo insieme in questa giornata, sicuramente. Grazie, grazie, grazie. Bene. Complimenti. Bene, grazie. Bravissima, è il tuo mestiere. Fai la radio. Sì, sai che no, io volevo fare una cosa, vi ho parlato, ma ci vuoi un tempo dopo o no? Sì, io sono fino a mezzogiotto. Eh, per esempio. Ma di fare... Sì, è ancora in onda e te lo dico in caso di dire delle cose. No, dico che sono servizi importanti anche per le persone con cui lavoriamo. Riuscire a trovare un modo che una cosa radio, con continuità, dia un servizio, un ascolto alle persone e un link con i servizi che possono trovare sarebbe una roba. Va bene. Ottivissimo. Non so dov'è il capo in questo momento, ma è da partire. Cosa? Sì, Matteo. Eh no, è un ginger, ha detto ieri che ieri ho fatto notanotte a Roma, perché era già un piacere. Sì, sì, no. Erika, facciamo qualcosa di faccio? Sì, sì. Sì, erano qua. Sì, erano qua. Ciao, grazie. 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 Sì, 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 va bene, va bene, grazie. Stampatevi dei miei, sono i messaggi per i... Sì, sì. C'è un po' di filo Daniele qua. Sì, 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 sì. Ciao ragazzi, potete fare gli auguri a quel patatone di mio figlio Tommaso. Auguri Tommaso! 13 anni! 13 anni Tommaso, grazie. Che meraviglia, ciao, ciao. casa di clienti due tv tutte e due su radio dj non vi mollo mai quello che non abbiamo detto che noi abbiamo cominciato alle 10 ma fino alle 19 potete rimanere sintonizzati sul 69 del digitale terrestre perché tutti i nostri amici e i nostri colleghi. Noi ci hanno messo per primi diciamo perché essendo i più belli poi invogliamo la gente a star qui. Ricordiamo che siamo in diretta anche su youtube. Anche su youtube. Tutte le info di quello di cui abbiamo parlato sono su dj.it. Allora è chiaramente un tris di amici messo insieme per estetica. Per estetica. Noi siamo belli insieme però separati facciamo cagare. Come quel gruppo di ragazze al bar che le vedi tutte tre quattro insieme dicono che belle quelle ragazze poi una a una invece sono abbastanza accessi. Però il gruppo crea. Ma la domanda io e te che parliamo tanto e siamo qui lasciamo poco spazio al nostro collega Francesco. Se noi aggiungi un post a tavola Francesco lo mettiamo. Ragazzi a me è sufficiente essere qua si parla di bambini oggi mi sento come nella casa di Masha e Orso. Vado a fare la foto sotto la doccia di Orso. Se vuoi ti teniamo qui in braccio come Rockefeller che faceva... E dove la metti la mano? Allora ragazzi in ascolto vi chiediamo scusa per questa confusione c'è un eccitamento e un'eccitazione dovuta al fatto proprio che un po' come quando non ci sono i professori a scuola. Un po' come se fossi supplenti. Ragazzi adesso vi stiamo per raccontare dopo la pubblicità. Vi stiamo per raccontare la storia di... parleremo di dialetti diciamo così. Parleremo di dialetti e l'utilizzo se è molto importante secondo me se è importante anche anche per voi. L'Italia diciamo che non è un paese intero che è uno anche dei motivi di difficoltà. Noi siamo tanti pezzettini insieme abbiamo la cultura del cibo che ci contraddistingue tra città e città e anche del dialetto. Quindi siamo tante piccole entità. Per esempio Francesco potremmo chiedere a Fabio così prima della pubblicità poi dopo sviluppiamo tutto il discorso. Quella cosa che ci chiedevamo ieri. Questo è già quel gioco che mi volete fare. Ci deve essere consapevolezza. Tu devi conoscere qualcosa che sta accadendo in Italia. Ad esempio il tuo libro è stato tradotto in molte lingue immagino no? In giapponese, in tedesco. Magari non questo nel dettaglio. E chissà se ci sono altre versioni italiane, dialettali. Io mi chiedevo se è mai venuto in mente anche soltanto una... Ti tradurlo in dialetto? In Bresciano. Eh non sarebbe male come idea. Sai, io sto lavorando... Io sono a posto così. Con questa risposta io sono a posto così. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Maurizio è registrato, ha detto che è una buona idea. È una buona idea! Segnate questo fatto che ha detto che è una buona idea per dopo che capirete. Wow! Che cos'è sta cosa? Gizzei for Children. Ora vi insegno una ricetta fantastica. Prendete una manciata di normalità, un pizzico d'amore e di quotidianità e servite ogni giorno ai bambini che ne hanno bisogno. Grazie! 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 Grazie a Milano! No! Ass Toni ritorno! So quanto sto a direjensi! No dicevo solo un sacco di versaggi Oh yeah Salutiamo Federico Russo Di te dice la mia radio stazione Lo vedi già Natale Io sono contento È quasi tutto pronto Ma aspetta un momento Perché tu sei una cosa che non può mancare Come un maglione con le rende O il vincolo è di mafia la televisione Per gli occhi buoni Grazie Grazie Jenny se ti dico una cosa Sì 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 Quindi Liberato lo mettiamo adesso o dopo? Secondo me adesso Adesso Ok Mi piace questo mio nuovo caffello che ho comprato? Sai che ho telefonato al produttore di Liberato Cioè ho mandato su Instagram Della roba che fanno al forum Cioè il 25 aprile giorno della liberazione Sono accreditato Sono già accreditato 25 aprile Sai che loro hanno mandato le pizze qua? Da Liberato Sì lo so Meraviglioso A noi solo il cartone Perché sennò si faceva Io li stavo rimandando indietro Perché sai che l'odore della pizza Adesso lo diciamo Adesso lo diciamo No bellissimo La produzione di Liberato Ha mandato i cartoni delle pizze Per raccontare che il giorno 25 aprile Sono al forum Nel giorno della liberazione Liberato Siccome è sabato ci fate Sai chi è Liberato vero Fabio? Sì Chi è Liberato? Assura lo sa Non si sa Io lo so che conosco la produzione Però non dico ovviamente Non dico niente Mistero Mistero È il figlio della Ferrante Fio della Ferrante La famiglia degli invisibili Vi ascoltero Perché c'è solo la tradizione È giusto E come dire questa bella macchina Si senti per occupare Che l'anno scorso Vem'era migliore Ti ascolterò A fare la ripetizione Stai voglio che è girato No E se lo dico E se lo dico Tantale a tutti Di noi radio DJ O come adesso Se non lo regno Se verai Vem'era un corso migliore Stiamo dimostrando Di conoscere solo la parte Che abbiamo cantato noi Esiste una versione video karaoke Nel caso Con le parole che scorrono Per cui recuperatela su YouTube Allora ragazzi Dunque adesso Per quelli che ci guardano Anche in televisione Vogliamo salutarvi Questa mattina ho fatto la doccia Mi sono fatto la barba Sapendo che ho messo la camicia Cosa che non metto neanche Quando vado a chiedere il filo in banca Invece qui Sì anche io ne ho trovata una Se avete tempo Di guardare la camicia di Viti Merita Un babbo natale Con gli occhi da solo Un po' ogni 80 Un babbo natale ogni 80 Io mi ero preparato Per Stefano Accorsi Ho detto se arriva Ah già è vero Salutiamo Stefano Accorsi Che voleva venire Ma è a Roma Ho visto ieri Il film di Ospetec L'ho visto ieri Bene bene Doveva venire questa mattina Ospetec Qua Con Tutte le Diciamo con la tringa Così Però ho detto Siamo già in tanti Ho detto Ospet Ozz E lo chiamo Ozz C'è lui Doveva venire Ho detto Ozz C'è Vitiello Cioè tu a Ferza Non Ospetec No perché eravamo in tanti E poi dico la verità Siccome si sta parlando Di beneficenza Chiunque venga A promuovere una cosa Non mi sembrava Una cosa carina Per loro Lo dico per loro Perché tu vai in beneficenza Secondo me non si sposava bene Essendo io una persona Profonda Di spessore Ho capito Che era il momento Mi stanno facendo Uno scherzo in diretta Mi spiace No Fabio Dico a tutti quelli A tutti quelli Io veramente non so nulla E mi spiace anche Perché avevo preparato Tutto un tema Che coinvolgeva gli ascoltatori Invece non vorrei parlare di me No Non si parla di te Si parla di un Di un caso editoriale Allora Siccome è un discorso Che avrà un suo crescendo Vai Un crescento Io mi sono seduto a fianco Io partirei Prima con un estratto Da un Tg Di una televisione napoletana Ok Dove si parla del fenomeno Che poi Sono libero Di raccontare In base alle vostre domande Se la cosa vi incuriosisce Vediamo Se non vi incuriosisce Strappiamo tutto Andiamo avanti Andiamo avanti Prego con il Tg napoletano La voce di Noemi De Falco E prima di salutarci Una notizia Che riguarda Il caso editoriale Dell'anno Salvatore Cozzolino Un imprenditore Nel settore Della micromobilità elettrica Traduce in napoletano Il best seller Della letteratura italiana Salvatore Cozzolino È un imprenditore Nell'emergente settore Della micromobilità Su due ruote L'uomo Ha inaugurato Di recente Un modesto Ma attrezzato Parcheggio Per monopattini elettrici Ma con questo settore Ancora in fase di sviluppo Il Cozzolino Si dedica a riscrivere In napoletano I successi editoriali Del momento In attesa di sfondare Nel suo settore Il Cozzolino Ha già tradotto Per il mercato campano I best seller Di Vincenzo Piccolo Sandro Veronesi Elena Ferrante E Stephen King Sulle bancarelle Dei mercati di Napoli E provincia La gente trova già Da qualche settimana Na granda Wully e Campà Di Fabio Volo Nella traduzione Di Salvatore Cozzolino Da Noemi De Falco È tutto A voi la linea Allora A parte che Guarda Guarda la copertina Salvatore Cozzolino Fabio Volo Na granda Wully e Campà Io Allora Fabio Volo è scritto Un po' piccolo Rispetto al traduttore L'ingombro è un po' Interiore Guarda Lo so L'emozione Devo stare Mi devo alzare Delle emozione Allora Sono pronto a rispondere A tutte le vostre domande Innanzitutto Volevo farvi notare Noemi De Falco Un TG Con quel ritmo sotto Spaccano Spaccano Brava Sembra quasi montato Sono pronto a rispondere Alle vostre domande Essendo Ferrato Sul territorio Campano Questa storia La conosco Molto bene Ok Stavo pensando In dialetto Bresciano Che non ci avevo pensato Come suona Una gran Oia Ovoia Anche De Campas De Viver Si è capito bene La storia Del Cozzolino Lui si è buttato Posso dire Che è una grande idea Invece Siccome io sto facendo Sto lavorando A un progetto In dialetto Bresciano No sto scherzando Ma questo Mi ha dato La patola Tradurre Più che il Bresciano In napoletano Io vi volevo Volevo veramente Mettere un accento Sul grande estro E sulla grande creatività Del Cozzolino Lui ha acquistato Un parcheggio Di monopattini elettrici Solo che c'è da dire Io lo vorrei tanto L'ho utilizzato Quando sono andato in Israele Io lo vorrei Ma cazzo Non si capisce niente Adesso li hanno equiparati A Napoli Non si sa Quella situazione Dei monopattini Questo ha comprato Un grande parcheggio Per monopattini elettrici Noemi De Falco Dice un modesto parcheggio Però Perché giù Tendono sempre a sminuire Però Allora lui Siccome non fa soldi Con i monopattini Allora ha detto Io mi metto a tradurre I libri I libri Il napoletano Io ho letto Stephen King Con It Come sarebbe Come è tradotto It C'è un passaggio Perché poi nel dialetto È molto più sentito Nel punto Quando dice Oh bagiaccio Ci correva a pressa E lui ci ragavano Sotto i paura Penny Weiser Non mi merda Cioè E lì è Penny Weiser Mi dispiace Ieri è passato Qua di giochi a vita Infatti Spero che non abbia letta La traduzione Del consolino Di It Perché Penny Weiser Non mi merda Non correva Cagate sotto i paura Noi bambini Della città Adesso ti scrivo Un pezzo Un incipi Di un libro famoso E vediamo No Fabio Noi abbiamo Il libro specifico Noi abbiamo Il tuo libro Tradotto in napoletano E tra poco Vorrei mettere All'audio O il vi O la pe Su carta No Noi siamo Molto preparati Allora abbiamo Lo spot che sta girando Lo vogliamo mettere adesso Lo spot Faccio sentire Lo spot che sta girando Per la Diciamo Per la campania Se non l'avete mai sentito È soltanto A uso locale State a sentire Fino alla fine Fino alla fine Entra nel cuore Nell'anima Nel vivo Delle parole che leggi Non leggerle in italiano Come sono state scritte Ma Nell'anima del tuo dialetto Salvatore Cozzolino Na granda Uli e i campani Salvatore traduce I più grandi successi editoriali In lingua napoletana Tocca il cuore Delle parole Come Salvatore Cozzolino Na granda Uli e i campani Edizioni Monda Napoli Traduzione Il grande successo editoriale E una gran voglia di vivere Di Fabio Volo Ma cosa veloce Alla fine Io questo fatto Che il tuo nome L'abbiano detto Veloce alla fine Io mi sono opposto Mi sono opposto Perché è più Cozzolino Siccome è da spingere Ma posso dirti Sai che quando Quando si fa il tour Per tutti Nei teatri Così Quando si è napoletani A Napoli C'è sempre la folla Quando non si è napoletani E hai la folla Dappertutto A Napoli C'è la folla Ma meno Rispetto al resto Delle città Vengo io Ti faccio la traduzione Cioè per dirti A Napoli Che è molto grande Vengono Ai miei libri Io con sto a cento Preciano Vengono meno Che non so Tipo a Catania O a Gallarate A parte Io a Napoli Ho visto delle code Sì però Se io fossi napoletano Ci sarebbe la coda Deveva la coda Sai che quando Nino D'Angelo Fece Sanremo Vietarono la città di Napoli Te le voto Non so se te lo ricordi Perché il napoletano Come vedo Un napoletano Lo vota subito Se Siani fosse di Roma O fosse di Brescia Ah fa le pizze Sarebbe Capito Tu sei napoletano Cioè tutta la tua Io dovevo nascere a Napoli Sai che è successo Fabio se tu sei d'accordo Mettiamo un disco Cioè sono sempre con l'ansia Dei tempi Dimenticandomi Che oggi è una giornata speciale Sì ma adesso scherziamo Via Cozzolino No 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 Aspetta Leggiamo un pezzo Leggiamo Almeno Almeno la prima pagina Facciamo il raffronto Tra la tua edizione La tua Se tu Se tu giustamente Elegantemente Ti vergogni La prima pagina La legge Francesco Io leggo la versione Del Cozzolino Cioè proprio ci tengo Come un accordo editoriale Ok 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 Il Cozzolino Ma che cazzo è questo Cozzolino Comunque la devi fare davvero Devi fare davvero L'audiolibro Ma troppo lì Non è rimasto Ai 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 Vediamo lunghi Io Lucio Dalla Per ora lo sbalterai Che sono tanti italiani Dai allora Ma fatti una roba Ve lo scena Appiccio dai Attenzione che c'è il direttore Eeey Anche questo studio Io non ho rotto Niente Noi non tu fossi anche Io tornare La scuola Tu non fai preparare Tu proprio E le dici Vediamo via Ma guarda che se ti piace Te lo lascio Ma questa è quella roba Eh sì Si respira Tutto a posto I borracci sono usabili No no Ma tu è bella Vista Arbazio Ho visto Sì No guarda Secondo me sono anche Perché io la porto sempre Tranne oggi Che mannaggia Che Scusa la mia Tutto a posto Che orario fai Sì Alla 18-20 Guarda il timido Guarda Adesso abbiamo E c'è Sono in mezzo E' finito in mezzo Tra un napoletano E Il mister rego No ma ha preso il mano lui Tutto Non si tiene Non si tiene La cimentiella Vabbè Com'è Maurizio Bene Bene Maurizio Maurizio Non è che ne abbiamo Uno originale Era Alex C'è stasera Che tutti Ti ritusciano qua Io c'è Un sottaggio Che vado Qui Tu hai usato Quello Io pensavo Questo è vero All'inizio No ma Ti sei proprio messo La prima pagina L'ho fatta io Ciao Ciao La prima pagina L'ho fatta io Non è che abbiamo Un altro libro normale Non ce l'abbiamo Magari qua Tra questi libri Bordeaux 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 Ti posso dire Comunque Il pozzolino A me me l'ha già dedicato No ma L'unico modo Per entrare Era che Lo portassi tu In amore Qui pure Magata Qui pure Magata Ha promosso il libro Mossandoti a me Ma Ma non si può A fare la radio Su sta No ma è finita È finita Ma proprio per Capito Il lavoro Il lavoro del Cozzolino Sì sì Stiamo sui quattro No ragazzi Io voglio questo libro Dove lo vendono Romagnola con Napoli Ah che idea Oh no Allora fai così In Beccamela tu Dai La prima pagina In Beccamela tu La prima pagina Hai visto che Venditti fa Conde Gregori Fa un concerto Allo stadio di Roma All'Olima Hai visto che Si è calato Hai visto che L'ha citato Però tu hai fatto Un regalo Dai guarda Che faceva Un regalo Volevo solo dire Agli ascoltatori Che Francesco Quagra Che parla poco Perché Schiacciato Quattro Su Parlo poco Volevo dire Che Francesco Quagra Lo conosco Da un po' Di anni Da quando ancora Lavorava Cioè quando stava Negli uffici Che facevi Beh ma tuttora Lo faccio Ma Nicola Vitiello Lo conosco Da quando sono venuto A vivere a Milano Quindi lo conosco Da sempre Perché io ho iniziato In una radio Dove c'era Nicola Vitiello Quindi Nicola Vitiello Mi ricordo Vi faccio solo questo esempio Ho un ricordo Io Nicola Vitiello E Marco Mazzoli Che Nella sala Riunioni Di Radiocapita Dai tempi Mazzoli Che era il più ricco Di tutti Vedeva già con la Porsche Disse Col telefono Adesso si può scrivere E ci fece vedere Il primo SMS Per dirti quanto siamo vecchi Ma sai che Marco è in Italia Se ci volesse fare una sorpresa Ma lo chiamiamo subito Da comandante Tipo Marco Subito qui Subito qui Subito qui Va bene Mazzoli dello Zoni 105 Un vaffaculo Ce l'ha in tasca Così Sicuro Ok Allora Io leggerei La prima Stanno scrivendo Ragazzi io voglio il libro Del Cozzolino Dove li vendono Con Napoli nel cuore Io ce l'ho già dedicato Tu ce l'hai già con la dedica Stefania Questo è il libro Questo è il libro Una grande La copertina non è bellissima Come quella originale Non è bella come questa originale Questo fatto di scrivere Piccolo chi l'ha scritto E grande chi l'ha tradotto Il contrario Monda Napoli Monda Napoli Edizioni Monda Napoli Leggerei la prima pagina Mi vuoi agevolare una base? Ma perché? Tu te la ricordi la tua prima pagina? Del libro? A memoria no No A memoria no Però dice Ma tu mi ami ancora Sì svegliarsi una mattina Non sapere più Non mi ricordo una roba del genere Ma tu mi ami ancora? Stavamo rintoglietto Che lui ci ha spiegato Quando Anna mi faceva questa domanda Avevamo appena fatto amore E io stavo pensando Quando non facevano così bella A nuova femmina C'era stato più trasporto Più forza Più passione Era già successo Che Anna mi domandasse E ogni volta Aveva risposto Subito subito Senza mai esitare Ma è certo che stiamo ancora Ma che cazzo di domanda mi ha fatto? Rispondeva così Perché non mi voleva domandare me stessa A essa ci atteneva Eppure non sapeva Che fosse autentico dentro di me Io e Anna Stavamo assieme a sette anni E Matteo Teneva cinque anni Era venuto a mancare A complicità E non noi Che non fosse Un interessato Solo come famiglia Senza che ce ne rinessemo conto Che il noi Era evaporato Ha già rimasto in silenzio Finito Adesso Ha già rimasto in silenzio Aveva decidere Se essere sincera O se aveva riuscire Una bucia Che mi avesse fatta Rimandare ancora Non era sicura Che voleva rendere ufficiale Che legherà A crisi nostra Possorino Sei un grande Possorino Sei un grande Allora guarda Ti giuro Ti giuro Ho la pelle dosta Guarda C'è la televisione Guarda 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 No perché non è una cazzata Perché è vero Che il dialetto Penetra di più Perché il dialetto Intanto è la lingua Con cui per esempio A volte si parla Con i genitori Il dialetto è quello Con gli amici veri Della scuola Comunque il dialetto Hai ragione Tu prima l'hai detto Per ridere Ma è così Si sente più col cuore A me mi è venuta La peridogia pure Che non è la mia lingua Però adesso Chiedo a tutti gli ascoltatori Di varie città Di fare ognuno E poi la pubblico Perché Anzi adesso In Bresciano Sai che la farò Mi piace molto Ha già fiutato il business Brava Inna bolletana Inna bolletana Inna bolletana Comunque quella cosa lì Tra l'altro La cosa che hai letto È una cosa Adesso non vedo L'ho scritta io No è una cosa Però insomma Quando sei nel letto Che tua moglie ti dice Mi ami ancora E tu di solito Dici sempre Ma fai finta di dormire O dici ma certo Perché puoi chiudere la cosa Invece per la prima volta Lui nel buio Dice Ma bisogna che me lo dico a me stesso Ma per quello nel buio Ma certo Non devo dire a me stesso Ma qua Non stiamo messi bene Adesso butto la fialetta a puzzolenta Ma c'è anche uno step peggiore Quando in una relazione Quella domanda Non te la fanno proprio più Non te la fanno No perché non si fanno Certe domande Certe domande Io dico sempre Mi ami ancora O sei felice Sono domande che non si fanno Così come le sorprese Esatto Non si fanno Non si fanno E io non ingrasso No è una bomba È un ascoltatore di Brindisi Che ci manda sempre il panettone Ma quest'anno si è superato Ragazzi Grazie Vieta calorica go go questa Però questo andrebbe mangiato Un coltitino Potresti dare con me Un po' pezzino Ma è un po' pezzino Grazie Jenny Vuoi? Eh dopo Ma Ma è questa No non riesco Proprio mentre scrivo No Intanto Intanto Noi pubblichiamo La storia del panettone Grazie No non riesco Adesso in privato Me lo mangio Ma come? Eh sì Ho detto così Jenny tu? Io passo per il momento Adesso lo guardo Sì se c'è Figuro Fando foto Io rispondo con video Foto e vocali Che figata Andrea carissimo Un abbraccio Un abbraccio Eh vabbè qua Sto in mano all'arte Sto in mano all'arte Un abbraccio Ciao Bella Simo Ti mando questo mozzato Mentre la televisione Mi riprende Ciao Oh ragazzi Dovete avere pazienza Noi non siamo abituati Alle telecamere Cioè Un'occasione sarà E ce la giochiamo Capito Con rispetto Sempre con rispetto Ma anche Ce ne ho provato Morta da ridere Tim Cozzolino Voglio il libro E' andata bene E' andata bene E' andata bene Dovevi dire palco Con quella base Bellissimo La voce del notiziario La voce del notiziario Ma che bella Ma che bella è sta voce Perché era tutto molto vero Molto bella Poi questa è la voce classica Della donna bella Interessante E tu l'hai conosciuta L'ho conosciuta pure Lo siamo andati a pranzo Ah ecco Vedete che avevo ragione Sì certo La Noemi 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 Un abbraccio Grazie Non mi pensate Segui in tv in questo momento Ti accendi su 69 Però mi hai dato Una notizia più bella Perché I'm happy Grazie Sapete che non è male sto pezzo Secondo me Avrà successo Questo spacca Sempre bello Grazie Grazie Io sono contento Adesso posso anche fare Un passo indietro Con la sedia Tratti sulle rotelle Vi lascio Perché io quello Quello che dovevo fare L'hai fatto L'hai fatto Allora cari ascoltatori Se qualcuno si fosse Sintonizzato in questo momento Oggi il paninsesto Di Radio DJ È tutto stravolto Per diciamo Questa Continua questa raccolta Fondi Grazie anche a voi Per situazioni Lui sta ritentando I messaggi Che non si tengono Ma vatta Arrezzau Grazie Che vuol dire Ah ammazza Ho capito adesso Mi ricordo che questa giornata Si chiama DJ for children Ok Fatta solo leggere Quindi ci sono delle associazioni Stiamo facendo questa raccolta fondi Vi ricordo che tra le varie cose Che si possono fare C'è anche la possibilità Di fare diciamo Un'offerta Per andare a pranzo Con i DJ di Radio DJ E niente Si può fare su DJ.it Si può fare su DJ.it Esatto Se la radio paga la cena E il pranzo Scusate A chi viene Se voi volete venire Con qualcuno di noi E volete fare una colletta Il resto di chi portate Paghiamo noi Sì sì Non più di 20 Può essere anche cumulativa Vediamo se Non più di 20 Vedo un bicielo che sale 700 700 Potete fare qualcosa di più Beh se vi mettete in 10 Mettete 70 euro a testa Ok Adesso mettete 100 euro a testa Arrivate a 1000 Ok Fabio leggeresti questa cosa Dal Bresciano Vediamo È un sacco di tempo Che leggo i messaggi Eccolo qua Mitici È da tanto tempo Che leggo i libri dei miei bimbi In dialetto Bresciano I libri ai bambini Li legge in maniera simultanea Ed è una ragazza Silvia Che vive a Bologna Questo è un modo Per tramandare Parte delle mie origini Si parla di dialetto Bresciano Esatto Quindi lei prende Nel mezzo del cammin Di nostra vita E io lo dice Osti Osti La gloria di colui Che tutto muove E non riesco a farlo a braccio Così Bisogna che leggo Ciao ragazzi Oggi è mio compleanno Mi fate un regalo No Ciao Ciao Dj for children Una grande festa Prima delle feste Radio D-D-DJ Ciao Grazie a tutti. 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 No, più... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Puntini, 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 puntini. Ti piace come tema? Certo, certo. O anche pranzi o cene di Natale rovinate da una piccola frase. Grazie a tutti. 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 discover, vuoi mettere, vuoi prendere un po' ma non si balla, non ballate non vi va di fare una ballata? è chabanzo con lo spogliarello con lo spogliarello come si chiamava? con il mondo rigidi no ma senza ti abbiamo creato abbiamo ringraziato Diego adesso dopo lo ringrazio si è creata proprio una cosa oh ciao ciao benvenuto sei di? così mi preparo vieni da questa parte vieni da quella parte la 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 Sì, alla stessa ora. No, anche TV? È su YouTube comunque. Qualcuno l'ha registrato questa puntata? Cioè è su YouTube, on demand. Ah, ok, ok. A metà giorno e un minuto c'è tutto. Perfetto. L'amore nell'aria! Eccoci qua. Ma diciamola questa cosa di YouTube che diceva Francesco. Sì, siamo in diretta su YouTube e tutte le dirette sono disponibili on demand un minuto dopo la fine della diretta. Quindi va che modernità. L'amore nell'aria, l'amore nel radio. Sapete che l'essere umano nasce con uno solo scopo nella vita. Imparare ad amare. Quello è l'unico scopo. Maurizio, tutte le mattine gli rompo le palle su sta roba. Imparare ad amare, capito? È difficile, serve un'educazione al sentimento. E noi quello dobbiamo fare. Raccogliere strumenti, incontrare, relazionarsi con gli altri per raccogliere questi strumenti per imparare ad amare. Calcola la pedagogia degli anni 70. No, perché a odiare o essere incazzati c'è un motivo ogni 5 minuti. Però lì è come un gioco elettronico. Quando tu odi, penalizzato, si riparte da capo. E riparti da capo. Per cui ogni volta che uno ti viene sotto e ti dice Ti odio. No, tu superi e chi lo ti guarda e ti dice Amore. Più difficile gliela metta, tanto prima o poi ci casca. E invece no, te. Capito? A proposito di amore. A proposito di amore, Vidas con Daniela Nava che ci ha raggiunto in studio e che vedete già. Daniela Nava, come stai? Benissimo. Benissimo. Sei un po' emozionata di essere in onda o sei abituata a essere in tv? No, sono molto emozionata di essere in onda. C'è appena entrato abbiamo fatto una ballata. Non dico quelli che si ascoltano in radio, siamo fatti un bel ballo su Dove Sindicato. Daniela, 35.000 persone avete aiutato fino adesso. Da quando? Dall'82? Dal 1982. Vidas è stata creata a Milano perché Giovanna Cavazzoni, una signora di straordinaria lungimiranza, si è resa conto che i malati terminali, quindi alla fine del loro percorso di malattia, non avevano la possibilità di essere assistiti e curati. venivano dimessi dagli ospedali e spesso anche nelle loro case i familiari facevano fatica a prendersi cura di loro. Quindi per questo voi accogliete bambini e famiglie senza alcun costo? Esatto, sì. Vidas dal 1982 offre assistenza completa e gratuita grazie ad equip formate in cure palliative e dal 2015 anche in cure palliative pediatriche. Prima a domicilio e da quest'anno, dalla fine di marzo, anche all'interno di Casa Sollevo Bimbi, che fino a ieri era l'unico hospice pediatrico in Lombardia, poi ieri ho letto che a Brescia erano aperto uno ed è il primo hospice pediatrico pubblico in Lombardia. Quindi lo sforzo che ha fatto Vidas è stato quello di rendersi conto che c'era una domanda in famiglie che sono stimate in circa 30.000 in Italia i casi di bambini con malattie inguaribili che avrebbero bisogno di un'assistenza dedicata, spesso in strutture protette. Quello che ha fatto Vidas è stato di attivare con energia, con forza, una domanda in tantissimi donatori e Casa Sollevo Bimbi è stata costruita grazie allo sforzo di privati, cittadini, organizzazioni. Vidas vive per la grandissima parte di donazioni, anche se è un'organizzazione accreditata e quindi riceve una copertura per il servizio che offre dalla regione Lombardia. però questa quota copre circa il 40% del suo fatturato. Il resto viene dalla generosità di tanti piccoli o grandi gesti. E stiamo sentendo Daniela Nava di Vidas proprio perché Vidas è una delle quattro associazioni delle quali ci occupiamo in questi giorni di beneficenza. Scusi, se ho capito bene, c'è proprio una struttura adesso? Sì. è una struttura ambulatoriale per offrire terapie di supporto che però hanno la possibilità di essere erogate all'interno di una mezza giornata o di una giornata. In questo momento ci sono pazienti che magari arrivano da altre strutture ospedaliere e sono da noi per fare quelli che noi chiamiamo ricoveri di abilitazione ovvero i genitori vengono formati perché possono assistere i loro bambini a casa oppure ricoveri di sollievo i genitori possono lasciare i loro piccoli perché l'assistenza che loro devono dispensare tutti i giorni è ad altissima intensità e quindi sono impegnati 24 ore su 24. Queste sono famiglie dove spesso ci sono altri fratelli e sorelle sani e quindi la possibilità di prendersi una pausa da questa assistenza logorante è importante insomma è veramente funzionale per loro per poter ripartire carichi. Bene, dov'è qui a Milano? È in zona Bonola accanto all'Hospice per gli adulti sullo stesso terreno con cesso incomodato gratuito dal comune di Milano vieni, devi venire. Vengo, sì, te l'ho chiesto per quello perché io ti ho ascoltato adesso e ho deciso che vengo. Sì, tu da quando hai ballato L'hai capito dallo sguardo? L'hai capito dallo sguardo? L'hai capito dallo sguardo? L'hai capito dallo sguardo? L'hai capito dallo sguardo, io vengo. No, no, io vengo, vengo, sì, sì. Da quando avete ballato? Da quando abbiamo ballato, io lo sentito. Grazie Daniele. Grazie veramente, grazie anche perché ti sei emozionata nel parlarlo e nel raccontarlo. Perché io incontro questi bambini e le loro mamme. Eh, esatto. Ci sono state mamme che non sono mai potute andare a casa con i loro bambini noi stiamo lavorando tantissimo anche con Dinamo Camp ma per esempio con le neonatologie con le terapie intensive neonatali quindi è arrivato un bambino che aveva sette mesi nato prematuro la sua mamma non è mai stato un giorno a casa con quel suo bambino ed è stata da noi per questo ricovero di abilitazione che le ha dato la possibilità di rientrare con l'assistenza domiciliare nostra ed è commovente la gioia che prigiona una mamma che finalmente può portare a casa il suo bambino a dieci mesi di età è qualcosa di, non so cioè, io l'ho provata. Bravo, bravo, bravo e noi felici di aiutarvi. Ah, abbiamo appena detto love is in the air bisogna imparare ad amare quando tu ami veramente è molto più potente che sentirsi amati. Grazie Daniele. Ciao, grazie a me. Grazie, grazie, grazie. Eh sì, ma hai agganciato. Ma vieni davvero? Eh vengo davvero, sì. Dopomiglia hai il tuo numero che viene da andare via. Volentissima. Marco hai ragione, Marco di Ciro non Marco Mirko Buffini perché io ce l'ho bevori intanto Marco Mirko Buffini No, ti stavo dicendo Mirko Buffini e invece no e ok Marco, Ciro, ti abbraccio grazie grazie Ma dove hai già parlato? Io prima mentre parlavi perché quando c'hai certa cosa per quello che mi sono ricordato mi sono ricordato sei simpaticissimo No, ma perché ti ho riconosciuto la faccia quando sei entrata no, quando parlavi si dice ma tu abitavi lì è diventato il mio ufficio quello lì io perché ho mio figlio adesso quindi non era abbastanza grande tu stai lì al 16 un po' di sfavere sì, sono girato dopo facciamola la canzone ragazzi che bello un momento bello cosa da guarda che ti sei ricordato sì, dopo mi dà anzi, dammelo finito dai ti dammi un numero di minato di minato facciamola la canzone che figo che suona la chitarra ma non la sa suonare ma non la sa suonare ma non la sa suonare manco lui sì 3,9,2 ma non faccio perché ma c'è la pub no, no ma anche qua siamo in tv con la mia preferita come stiamo andando? bene mazza quanti messaggi sì, grazie grazie di Natale disastroso eh, sì ok ah, ah, ficchè bene un sacco di messaggi qua piace molto questo trio bello sono contento grazie a proposito posso approfittare a pranzo con i vitiello fate crescere le vostre offerte siamo a 700 euro basta soltanto capito un rilancio di 25 euro giusto per farmi contento se lo fate faccio il pazzo in onda mi faccio prendere per pazzo perché per avete sentito stiamo conoscendo la gente per beneficenza le quattro associazioni di cui ci stiamo occupando a pranzo con i vitiello i nostri colleghi VIP li conoscete ma conoscete tutto dalle loro biografie noi siamo ancora gente giovane gente che non ci conosce cioè giovane giovane artisticamente giovane e se siamo ancora dovete mettere sul piatto anche qualcosa di interessante ma infatti l'ho detto una lezione di Pilates con Monica Mariano la mia insegnante di Pilates un giro al cane ci sarà anche lei a pranzo sì ci sarà anche lei assolutamente un giro con il mio cagnolino insieme a me con il cane Heisenberg un consulto sesso terapico con il caro Marco Rossi e poi questa è la cosa più importante sarà Foresti assistente di Linus la buona parola ecco allora siete radiofonici fate un investimento puntata di mille euro a pranzo con i vitiello i vitiello garantiscono che rientrando vanno da Sara e ci mettono una buona parola ma di qua non si esce vado a fare la chiusa non c'è e poi si stava la chiusa chiudevo ciao Eric grazie arrivederci complimenti cosa vuoi fare in questo intervento aspetta mi sono preso il numero perché vado all'associazione voglio andare a trovare i bambini quanto abbiamo quanto abbiamo quanto abbiamo il disco o un po' mi sta ok leggi un po' qua lo chiedono lo chiedono anche cosa lo chiedono lo spot lo spot che spot oggi mi dispiace io volevo dirvi questa cosa questa è una delle canzoni per me per quanto mi riguarda una delle canzoni più quella originale più belle al mondo in assoluto tra l'altro lui canadese per insomma ha cercato di diventare americano gli hanno detto di no e stiamo parlando di Neil Young esatto stiamo parlando di Neil Young che è venuto però nel Barolo è venuto a Barolo a suonare e il nostro Francesco io c'ero io sono stato invitato ma non c'ero in Italia qualche anno fa sì sì molto bello e come è stato il concerto lui beh sicuramente in quel contesto lì nel senso che comunque è sotto il castello di Barolo che ricordiamo nelle lang patrimonio dell'UNESCO ha suonato appunto con questo contesto di vigneti incredibili è lui che c'è tutto questo harvest moon harvest l'album harvest che vuol dire vendemmia quindi sta in fissa raccolta quindi insomma Neil Young cosa suona? suona la chitarra eccolo qua perché Vitiello ha visto la chitarra e vuol suonare la chitarra ma c'è già Nicky che suona Nicky è bravo suona la chitarra ma non è che c'è solo uno ma lui è bravo io cosa mi metto a stonare quella di chiesa ti ringrazio mio signore non ho più paura perché con la mia mano nel dai father and son un bel simbolo un 77 no dai cosa vuoi fare? it's no time to make a change just relax take it easy you're still young that's your fault there's so much you have to know find the girl set her down if you want you can marry look at me I am old but I'm happy questa non la so I was one no no non la so ma perché hai voluto fare sto momento? bellissimo quando tu fai una performance no o la fai bene o la prima strofa ce l'hai fatta bene mazzo ok certo sai fare i Mattia Bazar stasera che sera la gente no dopo Filippo di Molfetta la sta preparando l'ha imparata in sei minuti dammi due minuti per una strofa di stasera che sera no ti faccio questa che tu sia napoletano no che tu sia la ne scala e corsa senza guardar lo Oh, non avevamo provata questa. Quell'altra c'aveva pure il testo. Posso dirti, io la stavo facendo bene. Senta, fa la tua. Pubblicità. Dì già. Disco. C'è là, c'è là. Devi andare in pubblicità? Dai, che vai tu o che la facciamo noi? Dai. Dai, Fabio, Fabio, vieni. Stasera che sera, ti tiro giù il testo. Non lo so, Fabio, in cinque minuti. Sì, sì. Dai, filo. I have... ordine. Holdo, holdo. Era così, vero? Stasera... Ma non si fa le cose se non si sa. Stasera... Che sera... Aspetta, forse ha la tonalità. Stasera... Che s... Non era così, eh? Te la faccio sentire? Eh, no, la prima non vi... Stasera... Stasera... Non aspetta, non lo sbagliamo. Aspetta, aspetta, che ti faccio sentire l'originale. Prima, devo solo ritrovare il video di prima. Sì, sì. Ma adesso dobbiamo farla? No, non lo so. Stasera... Che sei... E stare tutto il tempo con te... Cioè, mi aspetta un terreno... È sempre una sorpresa per me... Puoi respirare il profondo del mare... Credo a questo, non lo so... Che video volevi? Volevi il video di... Qual è che era? Ah, eccolo qua! Eccolo qua! Stasera... E lui fa così... Mi fa... Mi fa... Mi fa... Eh... Tipo... Sì, pompalo tu... Pompalo tu... Pompalo tu... Ok, adesso la provo due secondi... Te la ricordi l'inizio che è soltanto accennato? Stasera... 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 Ma no! Ok... Che sì... Non la fa, io mi dissocio... Mi dissocio... Mi dissocio... Fabio, sotto Natale... Allora, da ritornello, quindi... Spaghetto 4... Da ritornello... Stasera... Spaghetto 4... Inizia con ritornello... Ma non siamo a casa nostra che ci facciamo i fatti nostri... C'è un pubblico... Oggi si può... Oggi si può... Stasera... Che sera... Restare tutto il tempo con te... Di notte l'amore, l'amore... È sempre una sorpresa per me... Puoi respirare il profumo del mare... Mentre dal vento non vi lasci cullare... Fare signore con menti cante... Ma perché? Non scordassi mai però di essere anche amante... Stasera... Tutti insieme, dai! Che sera, dai! Sono io... Quasi dissociato non la fai... Di notte l'amore, l'amore... È sempre una sorpresa per me... Grazie Fino! Non so, manco solo la chitarra... Abbiamo al telefono Suraci... Proprietario di RTL... Dice grazie... Per questa milionata di ascoltatori... Che ci avete appena passato... Ciao! Ciao RTL! Ciao RTL! Per andare in pubblicità... Spot del Cozzolino! Sentiamo! Entra nel cuore... Nell'anima... Nel vivo delle parole che leggi... Non leggerle in italiano... Come sono state scritte... Ma... Nell'anima del tuo dialetto... Salvatore Cozzolino... Una grande aulia e campà... Salvatore traduce i più grandi successi editoriali... In lingua napoletana... Tocca il cuore delle parole con... Salvatore Cozzolino... Una grande aulia e campà... Edizioni Monda Napoli... Traduzione del grande successo editoriale... Una gran voglia di vivere di Fabio Volo... DJ for Children... Pensa a Dinamo... E ti dimentichi la parola difficile... Mi è piaciuta l'arrampicata... Grazie a tutti... 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 abbiamo ancora fatto un programma radiofonico da un'ora e mezza una cacciara unica io non sono abituato a lavorare così come facciamo? una cacciara, non abbiamo fatto niente non abbiamo detto niente non sono abituato a lavorare così ho cercato di vendere un Rolex a zucchi di zerbi nel frattempo io invece sono talmente contento che chiuderei adesso lo voglio io sono proprio un'idea di business Fabio se la fai veramente chiama mi ci metto lo faccio leggere a te adesso in napoletano? tu riesci a farlo in tempo reale se no tu devi scrivere tutto ma in napoletano? è certo ma tu c'erai l'audiolibro letto da Fabio Volo? non questo mi dicono che ci sono quegli altri se no vabbè è giusto che in italiano lo faccia tu ma se lo vuoi far fare chiedi per espressa richiesta dell'autore napoletano però tu me lo devi fare io lo faccio in bresciano tu lo fai in bresciano? eh lo dovrei fare in tempo reale no vabbè ma è un lavoro ma su Napoli impazzisco it's time DJ mi sono appena permesso di dire che siamo in onda da un'ora e mezza non abbiamo ancora detto niente le uniche due cose sensate che abbiamo detto erano le due associazioni che abbiamo interpellato adesso però il cozzolino il cozzolino adesso però ci vuole un po' di contenuto qualcosa da condividere stavamo dicendo quel giorno che al pranzo alla cena di Natale sentini puntini adesso ora che arrivano i messaggi e tutto abbiamo finito quindi lasciamo poi i vostri messaggi al programma che andrà in onda dopo ho visto qua fuori c'è del movimento vedo un Albertino vedo un Rudy Zerbi ho cercato di vendergli un orologio di un mio amico a Rudy Zerbi ma non lo voglio comprare nella pausa pubblicità ho cercato di piazzare un appartamento che un mio amico sta vendendo e sto cercando gente quindi io vado da quelli con i soldi e dico ragazzi dobbiamo piazzare il pranzo di Natale per beneficenza quella è una cosa importante allora tu sei da solo a Pranzo Francesco? sono con Federico Russo e suonerò il violino Federico Russo Federico Russo e Francesco Quarna a pranzo e abbiamo Ivitiello quindi sei tu con Ivitiello io vengo solo perché Maurizio non vuol venire ricordo sempre che se volete fare una colletta e mettervi insieme siccome la radio paga il pranzo a me diciamo e a chi viene se voi venite con dieci persone i nove li pago io abbiamo già parlato che gli extra oltre all'offerta del pranzo l'abbiamo detto che ognuno di noi ha la facoltà di aggiungere delle cose tipo la mazza caffè no 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 allora io anche in onda lo stiamo dicendo io so che c'è uno che porterà degli ascoltatori a pippare in bagno non lo so ma no e beh sì ha detto io orda orda poi io ho proposto anche magari prima di mangiare facciamoci una io non fumo da un po' di tempo una canettina leggione che fa subito amicizia stomaco vuoto poi entriamo due bottiglie io stappo delle bottiglie è esattamente questo di cui parlavo è per questo che ho deciso di non andare perché diciamoci la verità ci sono dj con cui è divertente andare a pranzo e altri che quando voi andrete direte mi doveva pagare lui per venire con un rompicogliore che si è mangiato noioso palloso triste depresso non siamo noi tre è per questo che ci sono le canne ecco io dico noi siamo gente gente con cui ci si diverte a pranzo io come extra come extra ho messo lezione di pilates con monica mariano alla canottieri olona consulto sessuoterapico con marco rossi l'amico marco rossi giro con il mio cane heisenberg e in più mi soffermerai su questo ma soltanto per un minuto non rubo altro poi posso anche sta zitto la buona parola ah linus spiace la buona parola posso spiegare sei un dj stai cercando da anni di entrare in questo mondo ma ti sembra un mondo chiuso facile a pranzo con i vitiello molto semplice tu fai un investimento per la tua carriera l'offerta adesso è 700 tu fai 725 ti aggiudichi l'asta prendi tutte queste cose vieni a pranzo con noi paga radio dj noi saliamo andiamo al quinto piano prima da Sara poi da linus e i vitiello ci metteranno la buona parola ok adesso anche devo promuovermi il mio allora vai allora ok intanto devo mettere la buona parola ai vitiello perché tu bravo era lì che volevamo arrivare allora io metterò a linus la buona parola per i vitiello in fase d'asta non si deve dire questa roba qua che siamo gli ultimi no linus è andato subito a 2035 perché secondo me quello lì è uno che arriva con la cassettina no poi tipo catela avrà sicuramente il genitore di una ragazzina di x factor risparmiate passate da quarna o dai vitiello io so di uno che non posso dirlo che quello che vuole andare è per dargli uno schiaffo a pagarlo sì sì perché c'è un conto in sospeso sì 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 allora vediamo un attimo Federico Russo e qua siamo a 500 500 chi è che non ha in questo momento in tasca 500 scusate ma si è verificato che qualcuno invece piuttosto di salire è calato io vi dico solo una cosa se avete dei soldi che vi avanzano andate a pranzo con DJ Angelo visto la cifra dico sai che c'è mo li metto io quelle lì comunque Fabio Volo fate la golletta in 10 io porto tutto sesso, droga e rock and roll ok ci vediamo lì fuori ok poi così sta porto dei libri autografati tanto sto cambiando il divano porto anche se volete mi portate a casa anche il divano e c'ho la versione napoletana una grande Uria Campà di Salvatore Cossolino è bello che lo dici tu è bello però oggi abbiamo fatto una radio che la gente dice ma che cosa stiamo guarda dei messaggi la mia mamma sta apprezzando sono tutti contenti ragazzi muovere le natiche posso fare una rivelazione da conduttore di cinema DJ? non ho mai visto The Blues Brothers l'originale? mai visto non lo voglio vedere faccia respingente John Belushi non mi piace non mi piace faccia respingente sia lui che The Neck fuori non mi piace non mi piace mai visto ma si può considerare musical di The Blues Brothers è l'unico che mi piace posso dire che è bellissimo faccia respingente ma dov'è la nostra posta questa? maurì DJ aggregatore ce l'abbiamo ma così grossi questo è lì no questa no e non c'è io queste non le so usare ricidi in via ricidi tutto questo è una roba nuova ma che la filtrano loro? no 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 e come si fa in via ricidi? io non posso mandare il whatsapp no no è in automatico ma questo è un whatsapp no ma io dicevo la posta mi piace io vado alla vecchia vi amo buongiorno no no cosa? vogliamo? ah no 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 bellissimo ma che voglia che voglia io mi ci volevo dire il corso no aspetta io mi dimentico che c'hai preso eh perché tu l'hai tirato? ma devo stare attento guarda guarda mi dimentico il corso sono trattato io ahahahah 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 ma non hai capito che il tiro l'età per questo che qualcuno ha detto una giacca da dodo citatura ma non hai capito una giacca da dodo ahahahah 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 buongiorno ciao sono al telefono con la sabrina perego dell'ufficio musica eh sono un po' inizia devi fare dei cambiamenti sì dobbiamo aggiungere canzoni italiane sì quanto abbiamo di là 30 secondi ce la facciamo un po' vabbè dai 50 50 no no ci sostiene la musica e ci sostengono i messaggi degli ascoltatori che comunque in questo diciamo delirio ci trovano una freschezza di novità ecco mettiamo ora così oggi è un po' una giornata così il problema è che dopo una giornata così e poi ti cala la stanchezza perché è l'adrenalina un po' spardo allora bene Francesco se n'è proprio andato non si possiamo mettere Rupanes lì non si può mettere quel Rupanes mi hai tolto Rupanes mi hai tolto Rupanes allora noi al volo del mattino abbiamo un ascoltatore un ascoltatore che si chiama Andrea che è di Rovigo che ogni tanto ci viene incontro e dice che lui vive in campagna in mezzo alla nebbia la neve quello che è se non ho capito male c'ha un piantagioni di mele e lui la mattina si svegna in questa cascina si fa il caffè c'ha ancora la stufa lui si fa il caffè guarda fuori dalla finestra guarda la nebbia la brina tutta quella roba lì che piace a noi non so se a te ti piacciono la brina la nebbia così e lui ogni tanto dice lo so che voi siete una radio però io mi sto ascoltando sto disco ascoltatevelo anche voi e ci passa sempre dei dischi meravigliosi oggi ha scritto Andrea da Rovigo ha detto a Linus è tanti anni che propongo questa cosa ma non si riesce a entrare in quel programma tu sei l'unico che mi considera franzo con i vitiello che ci mettono una buona la buona parola quindi Andrea da Rovigo dice quanto mi piacerebbe realizzare un sogno sentire uno dei miei dischi suonati dalle 10 alle 12 mi dice così e ha scelto questo Rupanes vedi qua Rupanes come si scrive? Rau Rau Panes Panes come pane con la S finale un plurale di pane Tiger Stripe Sky ok quindi Tiger e Tigre Stripe sono le strisce Sky quando vedete un cielo che ha le strisce come le strisce di una tigra quindi lui è lì che si beve il suo caffè Labrina Labrina si beve Labrina no c'è Labrina fuori fa freddo ma dentro fa caldo scoppietta scoppietta il camino scoppietta la stufa l'acqua tutto diventa bello lì persino lo straccio per asciugare i bicchieri no? tutto è un oggetto che ha una dignità la mappina tutto ha dignità la brocca dell'acqua la penna la matita tutto non è mai uno spreco come qui da noi che mille cose lì ha due matite due penne una se si rompe minimalista minimalista ma tutto ha la sua dignità e la sua funzione non c'è niente in più c'è quello che serve più il caffè soprattutto il secondo subito ho scritto vorrei andare a cena con Andrea D'Arovigo e lì lo potevamo mettere all'asciata pure intanto vieni a pranzo con noi e ti portiamo da Andrea D'Arovigo e mentre lui si sorseggia questo caffè e pensa le cose che ho sbagliato nella vita le posso recuperare o posso fare altre cose belle cercando che queste belle coprano il dolore delle cose brutte ti piace? pensa così Andrea D'Arovigo e mentre dice così si mette questa canzone ma tutto si decide sulla canzone sei una cazzata Andrea D'Arovigo ciao mi fido di te mi piace bello super bravo Andrea Andrea D'Arovigo cosa mettiamo Maurizio? va bene si che ci piace molto bella con questa apprezzi anche la brina questa canzone qua ok facciamo un altro intervento Charlie Putt e poi chiudiamo veloce Charlie Putt no vabbè di già e mo? e mo? no questa è Ludivine Segnere l'attrice quella del Papa ultimo intervento di un paio di minuti due minuti e mezzo disco e poi chiudiamo ok adesso l'ultimo intervento lo fa Francesco col vino e la canzone ci raccontano ci raccontano sai cos'è il cabin porn? no volevo chiederti se con questa canzone che vino mi consiglieresti? strutturato il vitiello del mattino siete fantastici vedervi e sentirvi è un bel regalo no come ammazzare il programma sta canzone lo so che stai pensando a ridere lo so che bellissima una voce incredibile il tipo super quanto manca questo è il video della canzone ha fatto un video sto qua vedi un po come andrà da rovigo vedi le piante il verde il mosto la torba io già ne dubitavo adesso ho la conferma andrea da rovigo la brina il caffè sono tutte invenzioni della mente dello scrittore fabio volo e non esistono le scuse per permettere le canzoni ma io non l'ho ancora incontrato ma lo incontrerò perché abbiamo tante cose in comune io andrea di rovigo e quindi probabilmente lui che adesso pagherà per venire a pranzo con te vi siete troverai troverai andrea da rovigo mi ha scritto ieri mi ha detto io ti posso dire che invece talmente sono entrato nella canzone che ho pensato anche ad un abbinamento con un whisky no la gavulin torbato e così adesso passaggio lasciamo adesso questi minuti a tutti voi che non sapete magari volete comprare un vino un whisky un cognac un amaro un rum abbiamo all'occasione oggi la fortuna di avere con noi l'esperto francesco quarna che ora ci dirà per esempio con un'immagine così che ti abbiamo regalato quindi immaginati famiglie a casa l'albero di natale fuori fa freddo finisce tutto il disastro delle siamo già le arachidi siamo già la montagnetta di arachidi siamo già le bucce di mandarino che la nonna mette sulla stufa sul termosifone dopo di che tu dici ti va di bere qualcosa e allora quindi stiamo parlando di vini da meditazione ma io direi anche se c'è anche un liquorino un qualcosa andiamo sul vino con una canzone così abbiamo citato appunto la rugiada la brina io citerei il vino che arriva dalla nebbia cioè il nebbiolo il vitigno alla base di alcuni tra i grandi vini italiani si chiama nebbiolo perché nasce nelle zone con la nebbia ci sono svariate etimologie diciamo però la più accreditata che essendo così raccolto durante i periodi in cui storicamente c'era la nebbia per cui ottobre così pare che appunto venga denominato quindi adesso io vado a casa mi segno questo disco tiger stripe sky di root pain bellissimo bravo grande andrea e mi stappo da solo a pranzo a stomaco vuoto una boccia di nebbioli chiedi la cantina perché quella cosa fa la differenza io vengo da una zona che si chiama alto piemonte andrei lì ecco faccio un po' di promozioni poi se le volete mandare a francesco a gemme a gemme a gemme a gemme che ha tirato la stradona con il francoli lì in fondo e ale promotion no però dicevo che oltre all'abbinamento con il vino una canzone di questo tipo mi fa venire in mente quella tendenza su instagram non so se la conoscete chi si chiama cabin porn attenzione ok cos'è cabin porn DJ for children quindi siamo anche in faccia protetta è sostanzialmente un ammasso di gente che segue persone che postano foto di casette nei boschi molto belle io lo seguo ci sono anche dei libri bellissimi e dove si può praticare la digital detox cioè sai che una volta la conquista più grande era farsi raggiungere adesso è proprio andarsene rendersi irraggiungibile ci sono delle fotografie se andate su instagram appunto sul cabin porn e ci sono delle fotografie che ogni foto dice lì voglio andare lì voglio andare lì voglio andare lì sai io dove voglio andare che non l'ho visto su questo sito ma l'altro l'avete mai visti se non sbaglio è Svezia ma non sono sicuro adesso gli ascoltatori ci non c'è tempo dobbiamo mettere un disco perché io vado in islanda ma non ce l'ho visto quelle sono fatti come degli igloo di vetro credo sia Svezia se non sbaglio o Norvegia dove praticamente in mezzo al bosco hanno fatto queste cabine ci sono anche in Svizzera tra l'altro ok e tu praticamente dormi dentro un igloo di vetro e vedi se hai la fortuna anche siamo in faccia protetta non so se si può dire Svoreale l'ultimo intervento con questi spazi lo facciamo in piedi c'è l'uffizio di stare in piedi quando ci ricapita certo certo e cosa dobbiamo fare adesso un minutino wow un minutino un minutino in piedi non gli lasciamo il casino va vediamo i fogli andiamo a dire chi viene dopo di noi e chi viene Rudy, Alberto, Marisa, DJ Angelo e Chicco mi scrive una mia amica Francesco Top tu lo dico grazie buongiorno eh ma ho un po' quelle due funzioni lì per me è importantissimo uno spieghermi la roba e due parenti rispondi sugli renta più di quello che devi fare due del pomeriggio non vi sento tanto però no ci stiamo molto dietro gira no? eh si 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 eh si sente che vi dite non ci avete i sogni non ci avete i soldi voi non mi siamo arrivati a 600 euro eh ho finché il Musi Gorgone che torna domani tra l'altro minchia guarda che vini guarda no sono whisky questi qua vadoo guardi i giapponesi ah si minchia torba rossa tutti i torbati i whisky che ho detto prima la Gavulin e Oban che sono quelli diciamo un po' più conosciuti questo è da intenditore che figa che figa ok ecco 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 c'è l'ultimo minuto di una cosa che non ricapiterà più la passi quasi mutante ci sono essenziale accendete la tv canale 69 ah no ma adesso ci ho ultimo intervento in piedi Francesco chi arriva adesso? adesso arriva Rudy Zerbi Albertino Marisa, DJ Angelo e Chico Giuliani fino alle 14 è già volata, è già volata grazie amici, grazie davvero io non lo faccio potete riguardare la puntata su Youtube grazie Francesco, grazie Fabio grazie veramente VTL di aver condotto questo programma con noi grazie Maurizio alla macchina del suono Diego Linciano grazie per la copertina di una grande Aulia Gampà di Salvatore Cozzolino grazie a Jennifer Engelman e Stefania Saccinto a tutti voi, continuate, portateci a pranzo DJ.t grazie a Radio DJ e soprattutto grazie a tutti voi grazie